Oggi andiamo a visitare Santa Cruz. È circa un'ora per auto da Adeyè, su Tenerife. Let's go! Benvenuti a Crupilare! Like and subscribe! Ok, bene, let's go! Alla prossima! How much is it? Yes, because it was 0.8 per hour. Ok. Auditorium? Castillo. Castillo di San Juan Bautista. You cannot visit it. You can only come here in the park where there is also the auditorium and seat outside. Anyway, it's nice to see. Can you see? So this is very clear sea water. The princess of the Castillo. The princess of the Castillo. Il Castillo è serato. Old and new. Questo è il museo, ma lì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti